Musica Benvenuto sul bene confiscato alla Camorra di Cignano praticamente siamo alla settima tappa, al settimo anno, settima edizione del festival di Vini di Pioci e abbiamo accorto l'invito fattoci dalla rete del comitato Pepe Diana, l'associazione libera che praticamente annualmente tengono questo festival che si viene interamente sui beni confiscati alla Camorra proprio per incentivarne l'utilizzo, l'apertura, le riqualificazioni e appunto la consegna di questi beni alla comunità. Quindi io voglio dire questa sera che è importante che i cittadini siano tutti uniti in queste piccole battaglie in queste piccole battaglie quotidiane che sono utili a riscattare questa società che da per troppo troppo tempo è stata la marspariata. Per troppo tempo siamo stati costretti nelle nostre realtà ad essere incatenati alla barbarie ecco siamo per troppo tempi, siamo rimasti incatenati alla barbarie, hanno innalzato un muro hanno innalzato un muro di omertata nelle nostre parti per fare in modo che ciò non accadisse quello che stiamo stupendo stasera non potesse essere in pratica hanno innalzato delle barriere, ci hanno messo delle catene, ci hanno messo il bavaglio perché in realtà oggi se possiamo parlare, possiamo raccontare certe cose è perché in certo qual modo i cittadini grazie allo Stato oggi possono in certo qual modo agire per il bene della comunità e in questo senso contro determinate realtà che ci hanno presso fino ad oggi. ma quello che è importante è che i cittadini non perdano mai vista questo obiettivo perché una società che si affaccia al futuro, che si appresta ad affrontare nuove sfide deve portare con sé sempre quel bagaglio culturale e quel bagaglio di insegnamenti che sono provenuti innanzitutto dalle istituzioni e innanzitutto dai personaggi che hanno fatto delle istituzioni uno stile di vita, ecco voglio parlare di, faccio riferimento ai vari partigiani del bene faccio riferimento a persone come Rocco Vinnici, Enicassarà, Falcone, Borsellino e faccio riferimento a chi qualche vent'anni fa ci ha imparato a guardare questa realtà non più con gli occhi genti, freddi, di chi soccorre, di chi soccorre alla barbaia ma con gli occhi semplici, con gli occhi della vita, con gli occhi dell'amore quegli occhi che c'è, quegli occhi aperti che ci ha imparato ad aria, faccio riferire dove vediamo quindi io dopo questa breve introduzione voglio lasciare la parola al sindaco, il dottore Andrea Moretti io voglio portare il mio piore breve saluto e l'amministrazione comunale che il mio nome ti rappresenta e fare naturalmente i complimenti a Francesco, Francesco Barbato e a tutti quanti per tirare fuori questi argomenti che sono di una valenza sociale assai importanti per la crescita di una comunità noi cerchiamo in qualche modo di fare il nostro dovere di collaborarvi, di darvi una mano e un sostegno morale anche questo supporto di questo bene conviscato alla criminalità organizzata peccato che abbiamo perso un finanziamento per questo bene, un finanziamento di 500 mila euro che purtroppo ci penalizza un po' perché c'era l'iniezione di sistemare per bene questo bene, questo stabile e far sì che potesse essere utilizzato ancora meglio andiamo a stare le polemiche e la biotrologia su quello che è successo perché purtroppo c'è stata una fase di passaggio tra la commissione straordinaria e la nuova amministrazione e poi diciamo non ci siamo coordinati bene e quindi c'era la fretta da parte del ministero dell'interno per questi progetti, io so che se non vengono realizzati dal punto di vista proprio tecnico, tutte le procedure con una certa celerità poi succede che naturalmente la fanno da padrone. Grazie a tutti. 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 viene in varie volte all'iniziale che viene bene quindi bene siamo all'inverno di un bene multiscale oggi parliamo di bene muro stiamo stiamo bene noi io sono ancora più bene perché questo festival dell'impegno civile di quest'anno mi ha dato una possibilità che non ha dato a molti anni che fanno parte del festival è quello di partecipare alla vettura per la prima volta al pubblico di due beni confiscati quello di Semerola che è chiuso da anni e finalmente è finalmente restituito alla cittadinanza con una tappa del festival dell'impegno civile appunto e oggi mi trovo qui alla prima apertura di quel portone forse è stato già aperto quel portone ma per la prima volta c'è tanta c'è tanta gente qua dentro tanta gente che ha deciso di liberare il bene ha deciso di stare bene e di stare nel bene Zir Gennato dicevi prima si parlava si parlava appunto parlando di bene comune ci sono cose che sono comune a tutti quanti noi ci sono cose che dovremmo condividere perché quando è comune è di tutti vedo la maglietta partigiani del bene anche questo dovrebbe dovrebbe in certo modo dobbiamo condividere tutti quanti dobbiamo condividere il fatto di essere tutti quanti partigiani del bene tutti quanti noi dobbiamo nel nostro piccolo fare le nostre battaglie nessuno di noi deve prendere la sciacqua le mani e tirare avanti da voi sulle baticate o dire o fare tante altre cose sfidare di persona di persona incriminati ad Aversa passiamo prima Michele parlava degli occhi sociali come chiede di consiglio a Giuliano Ciano che oggi presente rappresenta il poveratino fuori di Zunga che opera all'interno dell'ex ospedale psichiatrico di Aversa un bene che andrebbe rivalutato riprendo un po' l'accelazione della parola di Michele un bene che andrebbe rivalutato che andrebbe riconsegnato alla collettività ma che invece purtroppo sta cadendo a pezzi anche in questo caso per effetto di la trascutatezza a volte che si ha nei confronti di beni che sono anche dal punto di vista artistico potrebbero dare tanto che però in qualche modo vengono abbandonati alla loro sorte senza sapere che potrebbero veramente rappresentare un presidio non solo di legalità ma anche culturale turistico e quant'altro a Giuliano chiedo rifacendo pure le indicazioni che magari chiedeva Michele per poter portare avanti gli orti quali sono le difficoltà per voi che operate all'interno di una struttura che vi cercate di recuperare anche con l'esperienza un po' più ampia della nuova cucina organizzata prima e l'operazione organizzata poi figure non è un caso che voi trovate all'interno dell'ospedale psichiatrico figure come quelle dei cosiddetti malati di mente che in qualche modo hanno ritrovato una nuova vita attraverso le attività che hanno portato avanti non solo con l'esperienza di Muri Zucca ma così poco possiamo raccontare la NCO di San Cipriano piuttosto che Maiano di Sesso Olunco con l'esperienza di Sima Poperillo quali sono le difficoltà che si incontrano nell'operare in questo settore che però sono a quanto pare per bilanciare una grossa soddisfazione come quelle che vi sono venute ad esempio nel caso di un mapposto che non è fatto alla domanda Sì, salve da bene in me io sono Giuliano sono socio e lavoratore e presidente della cooperativa Ampere Perlanta che gestisce la batteria sociale e politica che si trova all'interno del vecchio manicomio cimile daversa infatti non so se l'avete mai visto se l'avete mai visto se l'avete mai passato sono 4 ettari di terreno e c'è una struttura un immobile che fa parte della struttura dell'ex mining board alla quale abbiamo preso un fitto più o meno intorno al 2005 2007 facendo seguire di lavori di strutturazione con soldi privati insomma abbiamo fatto voto tutti i soci per poter affrontare questa spesa ci veniamo a dirlo perché non sono stati utilizzati soldi pubblici per la creazione di questa iniziativa e lì praticamente facciamo un'esperienza di cooperazione quindi siamo un'impresa cooperativa di tipo B che significa che si occupa di inserimento lavorativo di persone svantaggiate anche se adesso lo siamo un po' tutti una volta si parlava dei più ultimi noi ci sentiamo molto spesso i penultimi e capiamo nelle logiche del mercato dell'ultimo del penultimo perdendo di vista una cosa in particolare che è quello che si occupa di tutte le realtà di cui tu citavi è la questione delle persone cioè ritornare semplicemente a considerare ognuno di noi una persona e allora sei un attimo disposti cambi un attimo angolazione nel vedere quella che è la realtà del quotidiano inizia a vedere tutti come semplicemente persone inizia a vedere che molto probabilmente hanno bisogno di qualcos'altro hanno bisogno molto probabilmente di quello che hai bisogno tu o di quello che avrebbe bisogno qualunque cittadino qualunque persona che ha dei diritti della nostra comunità e quindi ci siamo iniziati a chiedere che cosa avevano bisogno le persone quindi avevano bisogno di relazioni di attività avevano bisogno di una casa avevano bisogno di un lavoro avevano bisogno di iniziare con la propria comunità un percorso che potesse portarli a una restituzione di dignità che passa attraverso le cose semplici la normalità la normalità del quotidiano grazie Giuliano per l'esperienza vi invito a chi non lo avesse fatto a fare un giro nella fattoria per mangiare magari ma anche per fare una semplice visita e capire un po' di quello che stiamo parlando proprio a proposito del fare e non di affidarsi solo ai racconti Giuliano parlava di mettersi insieme il comitato da Peppe Diana è diciamo una replica in piccola spagna di quella che è Libera che è questa serie di realtà territoriali che mette insieme tutte queste esperienze e cerca di costruire praticamente il bene comune come diceva anche Michele prima abbiamo sentito parlare di date Michele ci ha detto che sono sette anni che operano sul territorio Giuliano parlava di una cooperativa operante dal 98 2005 presenti nel cioè serve pazienza per poter fare le iniziative poter portare le proprie esperienze e farle bene cosa manca oggi se manca qualcosa e pensiamo che manca ancora qualcosa per poter fare il passo successivo nella costruzione di una rete come quella che in 20 anni si è costruita attorno al comitato Don Peppe Diana dopo la morte di Don Peppe quali sono le difficoltà principalmente che si incontrano nel poter fare le rete e quindi mettere insieme esperienze ce lo può dire solo Valerio Taglione insomma in questa sede forse è quello che ha un po' più esperienza da questo punto di vista grazie a tutti e innanzitutto ringrazio Francesco la situazione la cooperativa la cooperativa Germano e tutti quelli che hanno voluto fortemente questa tappa del fessere dell'impegno civile che è il frutto appunto di quei semi che ogni tanto il comitato Don Peppe la cooperativa sparge attraverso anche i momenti di formazione perché è importante il fare ma è importante anche l'incontrarsi anche lo studiare il conoscere il capire e Francesco penso che abbia partecipato ad un corso di formazione che abbiamo fatto insieme a sovoce il centro di servizi volontariato di Casetta qui abbiamo formato a settembre scorso un centinaio di cittadini di tre centri di servizio a Santa Maria Vito a Casetta e a Casal di Principe aiutandoli a capire che cos'è un bene compiscato come si poteva fare per utilizzare insomma sono anche diciamo i frutti di un percorso che negli anni diceva Enzo stiamo facendo il comitato Don Diana nasce ufficialmente il 25 aprile del 2006 ufficialmente lo dico perché abbiamo scelto poi il 25 aprile perché pensavamo che dopo tanti anni di resistenza potessimo parlare di liberazione dalla Cavorna perché noi il 25 aprile del 2006 pensavamo di aver iniziato quel percorso che dalla resistenza ci stava portando alla liberazione il comitato Don Diana nasce il 21 realmente nasce il 21 marzo del 1994 cioè esattamente il giorno in cui diceva il sindaco quella piazza davanti al cimitero 20.000 persone più stettero assistettero agli funerali di Don Peppe Diana poi come succede nella maggior parte dei casi 19.900 se ne vanno perché finisce la gelimonia e pochi restano quelli là che restano diciamo perché non hanno capito che è successo perché non si rendevano conto ancora di che cosa fosse accaduto in quei giorni e soprattutto per stare insieme per capire insieme per farsi forza insieme bisognava provare a resistere a quella giornata a quelle giornate in cui tutto stava finendo come una cosa facilissima a costruire ci vuole molto a distruggere ci vuole 5 minuti e quello ci aveva messo meno di 5 minuti ci aveva messo 5 secondi sparando 5 colpi di pistola a Don Peppe di Anno allora il 21 marzo nasce il comitato indiano decine di persone si fermano fuori il cimitero e decidono che non si poteva rimanere fermi bisognava prendere quel testimone bagnato ancora di sangue e costruire dalle terre di Capur dalle terre di Don Peppe di Anno lo dico a Francesco soprattutto perché Francesco conosco in maniera poi lo dico a tutti i giovani in particolare che se pensiamo di fare qualcosa dobbiamo decidere di dedicarci se noi pensiamo di avere di voler costruire un sogno noi dobbiamo impegnarci e non basta solo l'impegno c'è bisogno della perseveranza c'è bisogno della continuità questo ti fa assumere credibilità e forza nel tuo percorso allora quello che stiamo facendo oggi qui che stai facendo oggi in questa etapa è una cosa bellissima ma se pensiamo di aver esaurito il nostro compito oggi aprendo questo fortuna e richiudendolo stasera abbiamo sbagliato quello che ti come comitato Don Diana ti insegno mi permetto oggi per la prima volta forse sono uno dei più giovani è uno dei più vecchi relatori che di solito mi capita di essere vabbè il sindaco era un ospite quindi poi i sindaci in questo territorio purtroppo sono sempre dichiarini anzi ritorno Renato Natale che ritorna a fare il sindaco Moretti che ritorna a fare il sindaco c'è questo anche ritorno dei sindaci di vent'anni fa ma comunque al tavolo diciamo i regali del relatori oggi sono anche quello più anziani la cosa da una parte mi preoccupa ma da una parte mi fa anche piacere perché significa che questi eventi di cambiamenti così abbiamo chiamato quest'anno questo percorso legato ai vent'anni dall'uccisione di Don Peppe Diana stanno segnando quel sogno che venti anni fa quei cittadini che si fermarono davanti al cimitero hanno in qualche maniera stanno vedendo e cominciando a vedere quei frutti